Io ho passato un anno intero su un'isola deserta con una scimmia a tenermi in compagnia. Lei è salvo, signore! Ora può fare ritorno alla civiltà. Vuole che portiamo anche la sua amica scimmia? Ok! Sì, le insegniamo il linguaggio dei segni, così ci racconta cosa avete fatto tutto il tempo insieme sull'isola. No, 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 non la portiamo la scimmia.